Ben ritrovati cari amici appassionati di storia e strategia militare, qua sul canale Storia della Seconda Guerra Mondiale. In questa nuova puntata della serie sull'analisi del modello QGM per l'analisi militare, andremo a proporre un'analisi di sensitività. Innanzitutto spiegheremo che cos'è un'analisi di sensitività e poi cominceremo l'analisi vera e propria. Allora, negli scorsi video ci eravamo lasciati abbastanza in sospeso, dato che dopo un'analisi dimensionale del modello QGM, quindi degli OLI, e di tutte le variabili che compongono l'OLI, erano sorti dei dubbi sostanziali, sia dal punto di vista matematico-logico, sia dal punto di vista dimensionale. Quindi, per approfondire la questione, procederemo con un'ulteriore analisi, questa volta di sensitività. Prima di darvi una spiegazione consona di analisi di sensitività, vorrei ricordarvi che cos'è una funzione matematica. Appunto, una funzione è una relazione tra due insiemi, chiamati dominio e codominio, della funzione, che associa ad ogni elemento del dominio uno e un solo elemento del codominio. In poche parole, se vogliamo generalizzare per chi non si intende tanto di matematica, potremmo dire che la funzione è una relazione che ha dei dati forniti in input, chiamati variabili indipendenti, ci dà dei risultati chiamati output. Quindi, risultati variabili dipendenti. Generalmente, la y è uguale a f di x, x è appunto la variabile e y è il risultato della funzione. Quindi, nell'analisi di sensitività, detto questo, si tratta proprio di valutare le variazioni dei risultati forniti, quindi dell'output della funzione, quindi il valore di y, al variare dei valori delle variabili indipendenti. In un altro modo, possiamo dire che è un metodo per valutare la solidità di una previsione fornita dal nostro modello, in questo caso il QGM, esaminando appunto come varia questa previsione in base alle variazioni che forniamo ai parametri, alle variabili, eccetera. Insomma, si tratta sostanzialmente di individuare i risultati che dipendono da ipotesi sbagliate, illogiche oppure irragionevoli o dei ragionamenti che ci hanno tratto in inganno. Quindi potremo vedere la coerenza del nostro ragionamento e delle nostre supposizioni quando appunto stiamo teorizzando un modello. Ammetto di aver semplificato estremamente la questione riguardo all'analisi di sensitività anche per lunghezza del video e non siamo in una lezione di statistica, di teoria matematica, eccetera. Se volete approfondire l'argomento, come al solito nelle fonti qua in descrizione vi fornirò poi degli interessanti scritti per approfondire i pro e i contro di questa analisi e come funziona nel particolare. Ricapitolando il punto da cui ci eravamo lasciati nella scorsa puntata, abbiamo analizzato dal punto di vista O.L.I. Dal punto di vista matematico e militare avevamo dovuto apportare alcune modifiche effettuate sia da Clark e sia da Ciano. Poi abbiamo molti dubbi e incertezze sulle scelte di alcune costanti, di alcune formulazioni fatte da Dupuy. In altre variabili avevamo addirittura delle omissioni in cui non ci viene specificato come si arriva ad alcuni valori. Ricordiamo, una cosa, avevamo RCP che era dato da S per OE per radice di C e B fratto SA per OEA. Ed era tutto trattato nella prima o nella seconda puntata, se mi ricordo bene. Quindi, onde evitare di fare di nuovo un video da troppi minuti, se non capite che cosa sta a significare quella formula, vi rimando alle puntate precedenti. Quindi, come avevamo detto appena prima, dalla definizione, un'analisi di sensitività consiste nel valutare la variazione sul risultato finale, quindi Y, causato da una variazione di una variabile indipendente. Quindi, ci concentreremo su una variabile alla volta, mantenendo le altre costanti. In questo modo possiamo neutralizzare l'influenza che hanno le altre variabili che non vogliamo analizzare in questo momento. Quindi, la nostra formula di RCPB sarà Sv su SA, dato che CE e OE avranno appunto il valore di 1. Abbiamo visto che i fattori OLI per gli armamenti mobili erano sostanzialmente irragionevoli, e quindi non possiamo addentrarci in un'analisi successiva, dato che non abbiamo i dati per farlo. Vi ricordo che alcune variabili non erano nemmeno state definite così bene da Dupuis e lasciavano molta interpretazione e fantasia a loro riguardo. Quindi, cercheremo di analizzare partendo dai fatti certi. Quello che non si sa, non si può analizzare. Se ci forniranno poi in seguito appunto una formulazione matematicamente corretta degli OLI per armamenti mobili, si dovrà per forza poi procedere con un'analisi sempre di sensitività su questi fattori, ma dato che non abbiamo i dati su cui lavorare, ci viene impossibile fare questa operazione. In questa analisi utilizziamo appunto dei valori calcolati da Dupuis che ci fornisce nelle pagine 226 e 227 del suo libro, appunto sul QJM, nel suo primo libro. Abbiamo appunto sintetizzato tutti questi dati in una tabella, dove abbiamo una serie di armi. Abbiamo il fucile d'assalto AK-47 in 7,62 Soviet, la mitragliatrice leggera RPK, la mitragliatrice media PKM e un pezzo di artiglieria trainata a Weiser D30. Dupuis ci fornisce gli OLI singoli per l'arma, quindi per la K sono 1.638, 3.328 per la RPK, 3.887 per il PKM e questo è più che giusto perché comunque il PKM è sempre una mitragliatrice ma molto più pesante e letale dell'RPK. E poi abbiamo un OLI sostanzialmente molto più elevato per il nostro cannone di artiglieria che sta appunto a 934.893. Ipotizziamo di avere a questo punto due eserciti, un esercito A e un esercito B e diciamo le quantità di armamenti disponibili sia alla forza A che alla forza B. Nella forza A avremo 100K, in B 4.000, di RPK nella forza A ce ne saranno 10 e nessuno nella forza B. PKM 0 in A e 100 in B ma la forza A avrà 8 pezzi di artiglieria mentre la forza B non ne avrà. Quindi possiamo calcolare un OLI totale per la forza. Quindi sapendo la quantità possiamo calcolare l'OLI. Qua avremo tutti i valori, prendo il laser così evito di dirgli a voce appunto i valori. Qua avremo i valori della forza A riferita alle sue armi per la sua quantità. Qua alla forza B. Qua sotto avremo l'OLI totale della forza A che sta appunto a 7.676.271 mentre quello per la forza B sta a 6.940.700. Avremo l'RCP riferito alla forza A che sarà di 1.11 e l'RCP riferito alla forza B che sarà di 0.904. Da questi valori forniti possiamo partire per fare le nostre analisi. Qua parliamo appunto del fattore Rn cioè dell'agittata. Vi ricordo brevemente la formula che ci forniva Dupuy per calcolare l'agittata con la modifica effettuata da Jerome Clark. Rn uguale a numeratore 1 metro più radice quadrata di 0.001 metri più Er diviso 1 metro in modo da far quadrare sostanzialmente i valori dimensionali. Ricordiamo che Er, Effective Range, è pari al 90% dell'agittata massima della nostra arma. Quindi possiamo inizialmente fare un'analisi che è stata effettuata appunto da Clark. Quindi effettuare delle variazioni di più o meno il 25% delle costanti. E da queste analisi si può notare sostanzialmente che abbiamo delle variazioni minime che influiscono poco sull'RCP totale. Diciamo che la costante 1 a numeratore, quindi 1 più radice quadrata di 1 millesimo di metro più Er, tutto sotto radice, questo 1 rappresenta quello che viene definito in inglese Norm for Ranges, che sarebbe appunto la lunghezza del braccio umano nell'impugnare l'arma, cioè la distanza dall'operatore a cui viene sparato questo proiettile. Quindi si chiama generalmente Normal Range. Dato che queste armi appunto hanno delle gittate sostanzialmente molto maggiori in confronto alla lunghezza di un braccio umano ci possiamo chiedere quanto abbia sostanzialmente senso fornire questa variabile, cioè questa costante di 1. Quindi possiamo appunto partire facendo un'analisi di sensitività variando appunto il valore della norma. Possiamo avere quindi una norma originale, quindi col valore di 1, possiamo annullare questa norma o possiamo raddoppiarla e vedere quanto cambiano i risultati, contando che la lunghezza della norma è molto molto inferiore alla lunghezza della gittata totale anche sotto radice. Quindi avremo nel caso della K47 abbiamo gli OLI che abbiamo qua per la forza A comunque, per la forza A abbiamo gli OLI delle armi che abbiamo appena visto nella tabella precedente come anche qua sotto per la forza B. Quindi con la norma originale avremo questi valori, con la norma 0 questi e la norma 2X duplicata praticamente questi valori. Il bello che si può notare è che andiamo da un minimo con una norma di 0 più o meno sull'ordine dei 6 milioni, ci spostiamo verso un ordine di 7,6 per 10 alla sesta, per arrivare poi a una grandezza di 9,3 approssimando per 10 alla sesta. Quindi abbiamo sostanzialmente una variazione di 3.200.000 in questo caso e non è da poco, contando che stiamo parlando su un valore massimo di 9 milioni. Abbiamo sbagliato di 3, quindi sostanzialmente un terzo. Quindi l'influenza, secondo questa formulazione che ha la lunghezza di un braccio umano da un metro a due metri, influenza la letalità in modo eccessivo. E' una cosa sostanzialmente irragionevole. Possiamo anche fare lo stesso ragionamento sulla forza B, dove abbiamo una K47 e mitagliatrici medie PKM, dove appunto la cosa è ancora più tragica, perché partiamo appunto da un ordine minimo di 4 milioni e 2 per arrivare a un massimo di 9 milioni e 7, sempre approssimando. Quindi lo scarto che abbiamo è ancora più grande sostanzialmente se contiamo che abbiamo delle armi come una K47 e una PKM e non abbiamo la Weiser, ma più che altro contano gli OLI e i rapporti di quantità in questo caso. Qua vediamo in modo più schematico e più ordinato come varia appunto l'RCP totale variando appunto la norma e l'analisi di sensitività per sé, cioè abbiamo una norma 0, la norma originale è sempre un metro e la norma di due metri. Nel caso della forza B possiamo notare che partiamo da 0,69, arriviamo a 0,904, 1,04, mentre per la forza A 1,44, 1,11 e 0,959 però se guardiamo il trend di queste variazioni al variare appunto del fattore della norma ci accorgiamo che qua abbiamo un numero decisamente minore quindi l'RCP B è sostanzialmente minore del RCP A questa differenza viene già attenuata utilizzando la norma originale e possiamo vedere in questo caso che appunto se raddoppiamo la norma l'RCP cambia sostanzialmente se ora vi rimando al video che ho pubblicato appena prima che è proprio un'aggiunta per farvi capire meglio di cosa stiamo parlando quando aumentiamo la norma facevamo appunto variare quel parametro che ci trasla verso l'altro la curva di Rn stiamo effettuando una curva, la traslazione della curva verso l'alto sostanzialmente dato che ci siamo accorti che il nostro modello matematico è ipersensibile alla norma ma in un modo piuttosto irragionevole dobbiamo anche tenere conto della costante che sta sotto la radice quadrata ovvero quello 0,01 che come vi posso ricordare dalle scorse puntate appunto Dupuis non dava giustificazioni nell'adottare questa costante e in quel valore particolare possiamo di nuovo partire dalla nostra amata tabella dove abbiamo le armi l'OLI per arma è sempre lo stesso e qua vediamo appunto gli OLI totali calcolati in base a questa costante qua possiamo vedere la forza totale quindi gli OLI per la forza totale vedremo che l'OLI quando abbiamo la costante pari a 10 alla meno 3 sarà di 7 milioni e 7 circa quando invece abbiamo la costante pari a 10 alla meno 4 la nostra costante è di 3 milioni e mezzo mentre quando abbiamo la nostra costante a 0,1 sarà di 20 milioni e 8 nel caso della forza B qua abbiamo sempre i dati impostati nel medesimo modo possiamo passare a vedere gli OLI della forza B quindi partendo da 10 alla meno 3 come costante avremo appunto un valore di 6 milioni e 9 con 10 alla meno 4 abbiamo un valore di 4,1 mentre con un valore di 0,1 abbiamo appunto 15 milioni e 99 potremmo anche dire 16 milioni approssimando ripartendo dal video fatto su GeoGebra possiamo accorgerci che variando il valore di questa costante e facendo la derivata della funzione rn quindi facendo rn primo questo valore si manterrà a differenza del valore della norma che viene eliminato nella derivata infatti questo valore influisce sostanzialmente sulla pendenza, sul ratio di crescita della nostra curva se aumentiamo questo valore avremo una crescita più vistosa più ci avviciniamo all'intorno dello 0 quindi la nostra funzione crescerà con un ratio maggiore mentre diminuendo il valore la funzione crescerà con un ratio minore quindi questo valore va a influenzare sostanzialmente anche il calcolo del OLI il calcolo dell'RCP e qua vediamo appunto cosa succede al nostro RCP variando questo valore partendo da 10 a meno 4 e considerando RCPB avremo una sostanziale decrescita del nostro valore mentre per quanto riguarda RCP avremo una crescita il che può avere senso però vediamo che abbiamo delle sostanziali differenze considerevoli al variare di questa costante appunto il valore di questa costante influenza parecchio il valore di rn infatti il nostro problema si riassume in questo noi vediamo una sostanziale differenza di valore però d'altro canto non ci giustifica la scelta dell'inserimento di questa costante né il valore di essa appunto 0,01 non vengono date giustificazioni quindi se vogliamo muovere una critica generale a questa scelta a questo modello matematico potremo dire che 0,001 dovrebbe essere stabilito su base scientifica con un valore accurato e dimostrabile e giustificabile come vi ho già detto in matematica nulla è lasciato al caso come nelle scienze noi per fare qualsiasi affermazione dobbiamo essere in grado di dimostrarla come dicono tanti matematici scherzando io non credo nulla che non sia dimostrabile quindi se la cosa è dimostrabile ci credo nel caso in cui non sia dimostrabile io non la prendo per buona ed è un ragionamento sostanzialmente simile anche se ha delle differenze nelle altre scienze però diciamo che se ad esempio noi appassionati di storia ci troviamo uno davanti che ci dice Hitler non è morto sta sulla base antartica 711 non so manco più come la chiamavano i complottari comunque noi non crediamo a questo finché non ci vengano fornite le prove schiaccianti di questa affermazione noi non possiamo saltare dei passaggi logici quello che diciamo deve essere supportato nel caso della storia da fonti in matematica è molto più facile dimostrare una verità perché il ragionamento logico che ci sta dietro deve essere ragionevole dobbiamo essere in grado di dimostrare senza ombra di dubbio una cosa un'affermazione matematica diciamo e per questo si usa spesso la logica ad esempio anche nell'ennunciato dei teoremi nelle dimostrazioni varie eccetera è fondamentale che tutto sia motivato e che tutto abbia un suo perché ora analizziamo da questo punto di vista l'accuratezza vi ricordo che secondo la definizione di Dupuy l'accuratezza è la probabilità che un'arma colpisca il suo bersaglio quando quest'ultima venga mirata ed utilizzata nel modo corretto quindi questo fattore diciamo che esclude la possibilità che l'operatore non utilizzi bene gli organi di mira quindi secondo questa definizione si può pensare che è possibile che i valori assegnati a questa variabile possano essere comunque non corretti totalmente ci sorge questo dubbio quindi dobbiamo andare una volta ancora ad analizzare la questione faccio un esempio se noi abbiamo un'accuratezza stimata al 95% su un'arba questa potrebbe essere decrementata del 25% se l'accuratezza reale comprovata è del 70% quindi in questa analisi ripercorrendo questo esempio con questa percentuale vedremo cosa succede se abbiamo un valore dell'accuratezza appunto decrementato di un meno 25% vediamo cosa succede in questo caso abbiamo l'arma K47 l'accuratezza originale 0,8 il nuovo valore 0,55 forza A abbiamo gli OLI e forza B come nelle tabelle precedenti scusate non avevo preso il laser per indicare quindi qua abbiamo l'accuratezza originale stimata qua possiamo avere l'accuratezza reale in caso in cui sia verificata l'ipotesi che abbiamo detto sopra qua avremo l'OLI della forza A e l'OLI della forza B in questa tabella possiamo appunto vedere come cambiano i nostri risultati dell'RCPB e RCPA al variare della nostra accuratezza quindi vediamo che cambiamenti in alcune armi prendiamo ad esempio la Weiser sono capaci di cambiare le sorti della battaglia dalla forza rossa alla forza blu giusto cambiando del 25% la nostra accuratezza da questa analisi si evince che il valore assegnato a questa variabile è anch'esso critico nei confronti della predizione quindi è molto importante l'accuratezza nel valutare appunto una predizione su un campo di battaglia e diciamo ancora che analogamente ad altri fattori il valore dell'accuratezza dovrebbe essere stabilito in modo scientifico come diceva appunto Dupuis è difficile stabilire questo valore e ci va una grande massa di dati per appunto determinare l'accuratezza di un'arma a questo punto ci rimane soltanto più il fattore RL cioè l'affidabilità in questo caso si può analizzare questo fattore in modo analogo ed identico alla trattazione del fattore A cioè dell'accuratezza in questo caso possiamo altresì affermare che delle variazioni di RL possono cambiare in modo significativo il rapporto di forze che abbiamo in campo anche in questo caso possiamo fare lo stesso esempio con la Weiser e vedere come può cambiare la predizione teorica della nostra vittoria solo cambiando l'affidabilità del 25% riguardo alla Weiser di 30 trainato quindi anche qua viene si può vedere che RL ha un ruolo significativo nel stabilire nel predire la vittoria secondo questo modello però diciamo che il valore anche qua RL deve essere stabilito scientificamente detto questo detto tutto vi invito a dare un'occhiata alle fonti anche agli scritti matematici che vi spiegano sostanzialmente meglio che cos'è questo tipo di analisi detto questo detto tutto fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti però avviso importantissimo questa sera c'è la live di Parabellum quindi non voglio vedervi qua andiamo tutti di là a vedere le news che ci porta il buon Mirko ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti